Per una settimana diciamo che sono giocato tanto, l'avevo già detto ieri, quindi iniziare così per loro credo che sia importante, perché comunque da autostima, da alcune sicurezze che servono. Però è normale che per come la vedo io bisogna lavorare, bisogna migliorare, perché comunque di spazi ce ne sono tanti, se non è una squadra ha sofferto poco, ma poteva fare molto di più sotto la strada del gioco. A livello di preparazione a che punto siamo? Questo non lo so, perché è una settimana, è una preparazione in terza, è un'istata, perché comunque devi pensare a dargli una base importante, ma anche a te stesso devi pensare che comunque sono in seguito per te ufficiali, non può permetterti di dare il possibilità alle persone di stare meglio, quindi stiamo cercando di valutare, stiamo cercando comunque di lavorare nel modo giusto e per dare comunque una forma accettabile alla squadra. Da questo punto di vista, cinque cambi possono essere un vantaggio, perché io ho sempre detto che chi entra è molto più determinante di chi gioca dall'inizio, perché le partite la maggior parte significano il secondo tempo, se non è la squadra chi è entrata ha fatto benissimo, ha capito e ha ricevuto quello che volevo dire, quindi sono cose di sfatto. Abbiamo visto che qualcuno di tutti che è arrivato l'ha già avuto, quindi l'entretta c'è un'idea di sentire con il tuo direttore. Lei è in grado di dare una dimensione, perché noi stiamo cercando di capire cosa può uscire da questa squadra. Io sono accettato questa spira perché comunque sono sicuro che si può fare qualcosa di importante, ho avuto la fortuna di conoscere il direttore, quindi abbiamo una sintonia, pensiamo allo stesso modo, allo stesso obiettivo, è una proprietà il Comunetto nuova che vuole fare qualcosa di importante. Abbiamo dei giocatori che hanno accettato Novara, che si sono messi in discussione, che hanno ridurro il progetto. Quindi secondo me ci sono tutte le basse che cercare di fare bene.